Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo appuntamento con il nostro viaggio del pioniere e con la nostra ormai cara amica mia da tempo, ma ormai anche vostra perché avete cominciato a conoscerla, Augusta Di Meo, che oggi ci parlerà di un'altra carta e credo che ci riservi qualche sorpresa perché non lo so rispetto alla carta, ma rispetto a quello che ci ha sempre detto fin qua, qualcosa di inaspettato sono sicura che arriverà anche questa volta. Buongiorno Augusta. Buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti, grazie, grazie per questa opportunità e sono molto contenta di essere qui e raccontare oggi la carta numero 11, una carta che possiamo mettere negli slide affinché i nostri ascoltatori possano. Eccola qui, la forza. Ho scelto il numero 11 perché oggi è una giornata dove leggeremo ovunque 11, 11, 11 alle ore 11, 11. Ah, sai che non ci avevo neanche fatto caso, ma è vero che oggi è l'11 novembre. Esatto, esatto, quindi ho scelto questo arcano, questo arcano che in realtà ci parla di come il cambiamento avviene se seguiamo il suo consiglio. Ok, quindi non è qualcosa di esterno che viene a illuminarci, ma qualcosa di interno che poi porta una realtà concreta fuori. Allora, la carta prima di tutto è la prima carta della seconda serie decimale dei tarocchi e parla di energie inconsce. Vediamo anche come scritta, come scritto sotto la forza, possiamo vedere che al contrario delle altre, degli altri arcani è scritta a sinistra e a destra venti lineette. Il venti è l'arcano, è l'archetipo del giudizio che conclude questo ciclo, diciamo, di lavoro interiore. Quindi sta iniziando, cosa sta iniziando a fare? Sta iniziando a instaurare un rapporto con le sue parti più istintive, le parti istintive, quelle più animali in noi. Quindi è l'inizio di una conoscenza tutt'altro che superficiale e anche molto profonda. Quindi parla del rapporto che abbiamo noi con la parte più istintiva, spesso bloccata dalla mente, che tende per natura a reprimere, perché è condizionata da tutto quello che è educazione, società, eccetera, eccetera, e lo sappiamo bene, no? Che ci allontana dalla nostra conoscenza e dalla nostra coscienza, dalla nostra parte più vera, dalla nostra essenza. Infatti, se guardiamo la forza, possiamo vedere una riga sul collo, come raccontare che il mentale non deve centrare nulla con questo movimento, non ha parola. La donna di questa lama non usa alcuna violenza, possiamo vedere nel domare leone e le apre la bocca senza che leone opponga nessuna resistenza, tra l'altro, è lì pronto a farsi vedere. Racconta che non ha senso soffocare l'energia istintiva e l'animale che è noi, perché l'individuo che incarna questo arcano, comunque, quando noi cominciamo a fare questo lavoro, ha saputo vincere i suoi istinti o comunque sta instaurando un rapporto con il leone, senza distruggerli o reprimerli. E da essi, da questi istinti, attinge quella che è un'energia necessaria per noi. Cioè, come se bisogna entrare in comunicazione con loro per incanalare il loro potenziale. Quindi, sostanzialmente, ci mostra come gestire tutte le nostre ombre. Esatto. Wow. Il leone, tra l'altro, è sul secondo chakra. La parte creativa, come dire, tutte queste ombre non sono fine a se stesse, sono potenziali da trasformare. Infatti è un po' l'opera dell'alchimista. Con la carta numero 11 si comincia a fare un lavoro alchemico interiore, bello, consistente, che non distrugge nulla della materia, ma la nobilità. Trasformandola in modo... Scusa, scusa un attimo se ti interrompo, ma ci stai parlando di Ho'oponopono, perché uno dei principi di Ho'oponopono ci dice che i problemi sono opportunità, quindi veramente ce lo stai descrivendo dettagliatamente. Ed è importante entrare in comunicazione con loro per incanalare il loro potenziale, reprimerlo, insomma, non guardarlo, non serve a nulla, fa parte di noi. E non bisogna neanche disprezzare, ci insegna, giudicandoci, quello che è inferiore. Perché tutto è sacro, anche gli istinti meno nobili. Quindi quello che appare inferiore in realtà appare inferiore, non è necessario inferiore, è qualcosa comunque di funzionale al riconoscimento di noi stessi. Esatto, è funzionalissimo, appare, che parte appare inferiore? Sempre questa, no? La parte mentale. Infatti quella linea è veramente un simbolo, dire questo lavoro, con questo lavoro non centrare col giudizio, perché altrimenti non lo porti avanti. Anzi, queste forze istintive che possiamo, paura, rabbia, desiderio, piacere, sono da conoscere, parlano di noi e sono da integrare assolutamente. Come esprime la sua forza? La forza? Vediamo anche che si regge su un piede solo. Si vede uno, quindi, è come se si reggesse su un piede solo. Ha sei dita, di cui una rossa, come la lingua del leone. Quindi il rosso indica un lavoro nella materia concreto. Come si fanno a vedere anche questi istinti animali che noi, nella materia, nella vita, nei rapporti? Non certo meditando sul cucuzzolo della montagna, con gli altri. L'interpretazione dell'unghia per Jodorowsky è ancora più affascinante, perché dice che è un lavoro che dura per l'eternità, in quanto l'unghia è quella parte di noi che continua a crescere anche dopo la morte fisica. Molto potente questa affermazione. Quindi un movimento necessario che a livello animico, come consapevolezza, noi portiamo anche nelle vite successive. È un lavoro veramente importante. La forza, tra l'altro, è molto molto bella. Poi dipende, dipende da come la osserva la persona, no? Perché se riceve tutte queste informazioni che sto dando io in questo momento, vuol dire che siamo sul pezzo, come si dice, come dicono i ragazzini. Oppure se già, mamma mia, è leone, guarda lì, no? Che paura. Piuttosto che ha delle sensazioni così, possiamo vedere in noi, forse, che lo stiamo reprimendo, che stiamo reprimendo o stiamo bloccando quel movimento. Dipende sempre dalla sensazione che ci dà la carta. La sensazione che ci porta parla di noi. Certo che questa carta qua, allora, giustamente come dici tu, ognuno vede quello che lo riguarda e la sente come gli risuona, giustamente. Però, per come la vedo io, veramente è tanto rassicurante, perché è un'immagine serafica, tranquilla, anche questa relazione con quell'animale che tu appunto ci dici che è un leone, io avrei pensato che fosse un cane addomesticato. Quindi è veramente rappresentata all'ottava alta, ecco. Poi, ovviamente la vede come gli arriva. Sì, il cane è tranquillissimo, vedi? Se la fa anche aprire. E se guardiamo, lei neanche lo tocca con le mani? Lo sfiora? Non sta facendo nessun atto di violenza, ok? Ci sono, ti vedo. Dimmi, cosa hai da raccontarmi di me. Molto bello. Poi gli sta toccando la parte color carne, perché il giallo è la parte più illuminata. Quindi il color carne è la parte della materia. Sta proprio entrando nella sua parte più istintiva, animale, che corrisponde appunto all'espressione di noi davanti a determinati momenti della vita. Ok? E poi che altro dire della forza? Una cosa che noto è che nell'immagine complessiva c'è tanto rosso, perché l'abito è rosso, la sommità del cappello è rossa e tra l'altro sommità del cappello corrisponde anche alla sommità del capo, quindi al chakra di collegamento. È interessante, credo, questa cosa di tutto il rosso che c'è e in più la descrizione che facevi prima del collegamento tra l'umano, diciamo così, e l'animale sulla carne ma verso, ancora una volta, verso il rosso che tu dici appunto è la materia proprio pratica. Sì, esatto. E sul rosso però vediamo anche tanto azzurro, Giovanna. Sì, 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 certo, no, certo. Azzurro e verde sono i principali, però siccome prima tu hai portato l'attenzione al rosso, al collegamento con la materia, vedo che in questa carta ce n'è tanto, forse anche rispetto alle altre che hanno sempre più blu e, beh, qui è il blu il predominante sicuramente. Sì, è un lavoro concreto da fare, è qualcosa di tangibile, cioè proprio lo stare con, trasformare con queste emozioni e questi istinti, ecco, li chiamerei più istinti. Poi la storia del cappello, vedi che ha la forma dell'infinito e ha delle frecce che vanno in su, cioè, come dire, è un atto dovuto farlo. Anche se la testa è tagliata, comunque il cappello ci riporta al fatto che fa parte del lavoro su noi stessi, perché è collegato con l'alto e al segno dell'infinito. La cosa che dicevo prima, è un lavoro che ci resta nelle cellule quando impariamo a farlo. Un lavoro proprio importante per la nostra trasformazione. Questa cosa dei particolari che ci descrivi, Augusta, è veramente bellissima, interessantissima, perché per dire quel taglio sul collo, che io avrei interpretato come una collana, ma non l'avrei proprio neanche notato se non me lo facevi notare tu. E adesso il pensiero che mi viene è vero, c'è il taglio, però la testa non è staccata. Quindi, come dici tu, vuol dire che bisogna dare il giusto valore anche al pensiero, alla razionalità. Tant'è vero che poi la figura, come fai notare cosa che non avrei notato, finisce con la rappresentazione, col simbolo dell'infinito e quindi sì, è un messaggio molto profondo. Sì, anche il corsetto ha un significato. Qualcuno che lo può vedere, mi sta soffocando quel corsetto, con tutte quelle righe, quindi ancora tutte delle… perché ovviamente questo movimento per trasformarlo lo devi amare anche, devi amare le parti, quelle parti, no? E il corsetto è proprio sulla parte del cuore. Dire, riesco ad accoglierlo oppure vedo il corsetto come qualcosa che mi reprime, mi stringe. Quando parliamo con le persone, cerchiamo di fare osservare la carta in tutti i particolari, vedere dove cade lo sguardo. Questo l'ho detto tanto, ma è importante anche per noi, se abbiamo un mazzo di tarocchi, quando consultiamo, oppure chiediamo una domanda, ovviamente non futuristica, ma sempre nel presente, dove la sensazione che la singola carta ci dà, mi piace, non mi piace, insomma, è il particolare. Questo è fondamentale perché ci riporta anche al nostro sentire. E quel sentire è quella parte che racconta di noi in quel momento. Ok. Ho deciso oggi di proporre anche la carta corrispettiva nelle carte della creazione, che è la CAF, l'altra slide. Sappiamo che sull'origine dei tarocchi ci sono tante ipotesi, quella a cui credo io, che arrivino dalle lettere sacre, le lettere ebraiche, le lettere della creazione, che sono anche loro 22. E se osserviamo la lettera CAF, Allora, prima di tutto c'è da dire che le lettere della creazione, Greg Braden, nel Codice della vita, espone la straordinaria correlazione che c'è con il nostro alfabeto genetico, perché sono tra stati trovati i simboli delle lettere nei nostri amminoacidi. Quindi questa è molto interessante, sì. Emiliano Toso, che lo conosciamo tutti, che è anche biologo e musicista, ha scritto 22 brani molto belli sulle 22 lettere. E che cosa racconta la CAF? Racconta la stessa cosa che abbiamo detto della forza, che è la capacità di attivare quel maschile sano e quindi la capacità di penetrare se stessi, penetrare nei mondi interiori. Però essendo maschile all'ottava alta e non quel maschile del fare fare fare, di cui siamo abituati, ci parla anche di coraggio ma di tenerezza, di forza ma di cura. Ci dice passiamo dal pensare al sentire e agiamo. Ed è complementare con la lettera TEN, che è la lettera del femminile, che è l'accoglienza. La CAF senza la TEN non c'è. Nel senso accolgo, mi apro, divento capienza, cioè sono qua, e tu maschile CAF mi puoi penetrare per vedere cosa c'è dentro. Quello che c'è dentro lo portiamo fuori nel mondo insieme. Quindi l'unione del maschile e del femminile. è molto bella e se la guardiamo ha un po' la stessa forma. Calcoliamo che le lettere ebraiche, comunque come le lettere arabe, partono da destra. Se noi giriamo questa carta ha un po' il movimento della forza. Quindi accogliere tutte le parti di noi, anche quelle che non ci piacciono, perché reprimerle non serve a nulla, anzi possono essere distruttive gli istinti, quelli inferiori, quelli più bassi, reprimerli può portare veramente all'autodistruzione. Il concetto del mai contro ritorna anche nella nostra interiorità, non è solo mai contro l'esterno, ma mai contro, neanche contro le nostre parti. Giovanna, prima di tutto, prima di tutto, ma è contro le nostre parti, perché quando cominciamo ad accogliere, ad amare tutte le nostre parti, non ci viene neanche, secondo me, facile farlo. Assolutamente d'accordo, completamente d'accordo con te, Augusta. Si parte sempre da qua, non c'è nulla da fare. Quindi questa giornata di portali 11.11, ricordiamoci che non arriva niente se prima non abbiamo aperto in noi un canale, perché quello che sta arrivando possa penetrare. Mi piacerebbe concludere, però devo mettere gli occhiali, perché con l'età sono diventata un po' miope. La parte del libro La via dei tarocchi di Jodorowsky, che per ogni arcano si chiude sempre con quello che è poesia, per me è lunga, ma leggerò solo due capoversi, per capire meglio l'energia della carta numero 11, ma anche della caffa. Vi aspettavo, dice la forza. Sono l'inizio del nuovo ciclo e dopo tutto quello che avete fatto non potreste vivere se non mi aveste conosciuto. Vi insegnerò a vincere la paura. Con me sarete pronti a vedere tutto, a udire tutto, a provare tutto, a toccare tutto. I sensi non hanno limiti, ma la morale è fatta di paure. Vi farò vedere l'immensa palude delle vostre pulsioni, quelle sublimi e le più tenebrose. Sono la forza oscura che dentro di voi risale verso la luce. Piuttosto che lascio circolare nel mio corpo, dal basso verso l'alto, come le onde di un oceano in tempesta, l'impulso supplime e feroce di cui il mondo ha bisogno. Chiamatelo come vi pare, potenza sessuale, energia della materia, drago, kundalini. È un caos incommensurabile che prende forma dentro di me. Nel mio grembo si uniscono un diavolo e un angelo, formando un vortice, come un albero distendo i rami verso il cielo, ma allo stesso tempo affondo con forza le radici nella terra. Sono una scala su cui l'energia sale e scende contemporaneamente. Niente mi spaventa, sono l'inizio della creazione. Wow! Direi che non c'è altro da dire, la conclusione è perfetta. Ecco, della creazione è dentro di noi. Dobbiamo diventare capaci veramente di prendere contatto con questa forza e non aspettarci nulla dall'esterno. Bellissimo, bellissimo. Io mi entusiasmo ogni volta che trovo questi riscontri di comunione, di concetti, di verità, di fondamenti tra tutte le varie dottrine, pratiche. È bellissimo. Per me è veramente entusiasmante. E in questo viaggio che stiamo facendo con te è una scoperta gioiosa proprio di queste connessioni, di questa comunicazione a un altro livello che c'è tra tutto quello che vuole portarci degli insegnamenti seri. Diciamo che se un insegnamento è valido ci parla di questo. Quindi questa cosa dei problemi sono opportunità dell'ombra che è qualcosa da riconoscere, accogliere e utilizzare per il messaggio che ci porta oltre ad essere un messaggio secondo me fondamentale per la strada di chiunque è bellissimo il fatto che sia così condiviso in tutte le possiamo chiamarle dottrine, filosofie, ragionamenti, insegnamenti se una cosa funziona contiene questo. Sì, io dico sempre che l'universo è stato generoso nel darci più dottrine e più discipline per poi arrivare alla stessa conclusione. quella che c'è che ci vuole far sapere in questo periodo storico in questo momento di crescita ecco. Esatto, e ognuno ha la possibilità di scegliere la strada che gli risuona meglio dato quante sono ma alla fine ci dicono le stesse cose usano gli stessi strumenti e conducono nello stesso luogo. Esatto, alla responsabilità personale no? è la base. io ringrazio tantissimo alcuni spettatori che si sono iscritti anche al mio corso di tarologia grazie e che è partito due settimane fa no, tre settimane fa questa settimana la quarta sono contenta e avrà inizio il corso di lettere della creazione invece giovedì prossimo queste sono delle carte che ho fatto io secondo quello che ho studiato quello che sento rispetto alla correlazione con i tarocchi e giovedì prossimo benissimo fantastico questa notizia mi mancava inseriremo i dati inseriremo i dati qui sotto in maniera che chi fosse interessato può prendere contatto con Augusta ma naturalmente sotto il video trovate sempre tutti i riferimenti per entrare in contatto con Augusta buon viaggio a chi vorrà vorrà unirsi a te e in bocca al lupo per questo nuovo corso visto che è quello precedente mi pare che stia funzionando alla grande da quello che dici sì sì certo e poi farò la spunta di tutte le nostre puntate perché non mi ricordo che carte mancano e mi mancano ancora parecchie per fortuna perché mi dispiacerebbe interrompere il viaggio quindi ci vediamo tra un tre settimane circa tra un po' quando sarà tra un po' grazie Augusta grazie a tutti quelli che ci seguono che continuano a supportarci sapete che anche un like una nuova iscrizione per noi è preziosa quindi se vi piace quello che stiamo facendo che stiamo dicendo che cerchiamo di condividere aiutateci come potete condividete magari anche questo video nei vostri canali e avanti tutta sempre grazie Augusta grazie Giovanna grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti